Arriva la mano pesante del giudice sportivo sul Lecce in vista del big match contro il Benevento, a cui basta un solo punto per brindare alla promozione diretta in Serie B. Due giornate di squalifica sono state inflitte al tecnico giallorosso Piero Braglia. L'allenatore toscano domenica scorsa era stato allontanato dalla panchina nel corso del primo tempo durante la partita con la Paganese per aver protestato animatamente contro alcune decisioni arbitrali. Braglia seguirà dunque dalla tribuna la sfida di Benevento e la partita in casa contro la Lupa Castelli Romani. Non è tutto perché il responsabile dell'area tecnica Stefano Trinchiera è stato squalificato fino al 3 maggio per comportamento gravemente scorretto verso i componenti della panchina della squadra avversaria durante la stessa gara di domenica. Una giornata di squalifica per il difensore Francesco Cosenza. Infine, 2.500 euro di ammenda inflitta alla società perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere un grosso petardo nel proprio settore. Ieri la squadra ha effettuato un allenamento pomeridiano al Via del Mare con lavoro prettamente atletico, programma di allenamento differenziato per Abruzzese, Salvi e Freddi. Oggi pomeriggio è in programma una seduta a porte chiuse alla Cittadella dello Sport di Martignano.